Pasticcio di fine legislatura, il Consiglio Comunale boccia l'Ecopass e Palazzo Zanca, perde così anche i 200 mila euro al mese relativi alla cosiddetta tassa di attraversamento dello stretto di Messina, versata da camionisti e automobilisti non residenti e destinati alla sistemazione delle strade cittadine. Un comunicato stampa del Comune ha sintetizzato quanto accaduto ieri. Il Consiglio, si legge nella nota di ramata, ha bocciato con tre voti favorevoli, due contrari e 14 astenuti, il provvedimento relativo alla convalida della deliberazione dell'Aggiunta Municipale numero 589 del 29 giugno 2012. In altre parole non si è dato seguito a quanto aveva avviato con consensi trasversali l'ex sindaco di Messina Giuseppe Buzanca e la cosa più grave è che sembra che i consiglieri non si siano nemmeno resi conto del parere espresso a nome dei cittadini. Adesso occorrerà rimediare. Probabilmente la delibera rivista e corretta ritornerà in aula con le caratteristiche dell'urgenza e dell'indifferibilità requisiti indispensabili perché l'Assemblea di Palazzo Zanca si esprima in questi giorni che precedono le elezioni. Bisognerà però capire se i consiglieri comunali impegnati in campagna elettorale abbiano loro i requisiti minimi di attenzione e competenza rispetto alle delibere sulle quali sono chiamati a votare.